Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada e da 1 possibili disagi per presenza di personale su strada per lavori in entrata a Calenzano nelle due direzioni. Via 11 rallentamenti e code per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola per traffico intenso tra Prato Ovest e Prato Est, tutto verso Firenze. Arriviamo in Fipiliro dove troviamo rallentamenti verso Livorno tra Firenze e Scandici e Scandici verso Firenze tra La Strassigna e Firenze e Scandici. Il traffico urbano di Firenze, prudenza per materiale incarreggiata sul ponte Giovanni Falcone. Poverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.